Quel bambino sono io, ma era anche mio padre, era anche il padre di mio padre, ed era anche il padre del padre di mio padre. Noi siamo una famiglia che ha un cognome, che è un tipico cognome di arti e mestieri. Il cognome indicava la professione. Di mare, perché, da che io sappia, tutti quanti vengono dal mare. Ed erano del quartiere di Santa Lucia, quando quel quartiere era un quartiere che era un quartiere marinaro. Tant'è vero che i palazzi che sono a Castel del Lovo sono borgo marinari. Quello era una zona di marinai e i miei vengono da lì, al punto che vi racconto una piccola storia, tanto per riderci su. Il padre di mio nonno era in Spagna, imbarcato, e aveva un'amante spagnola, perché si portava anche allora. E tornò a Napoli, ma a Napoli era arrivata l'epidemia di Spagnola che cancellò 6 milioni di vite in Europa. E quando sbarcò al porto di Napoli, lo fermarono e gli dissero Alfonso sai niente? È arrivata la Spagnola a casa tua. Mio nonno si imbarcò di nuovo e se ne tornò. Allora, visto che questo libro è dedicato, se lo è...